Ciao a tutti e bentornati alla versione di Barley, il podcast che parla di streaming e birre di qualità. Io sono Roberto e se vi piacciono le mie recensioni iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per non perdere i prossimi episodi. Siate curiosi e non fermatevi alla prima. Prima di cominciare voglio ringraziare lo sponsor di questo episodio, 1001 Birre. 1001 Birre è il birshop online che ti offre una vasta scelta tra centinaia di birre artigianali italiane e straniere. Sul sito di 1001 Birre troverai tutti gli stili di birra che raccontiamo in questo podcast e molti altri ancora, per non fermarti alla prima. Inserisci il codice BARLEY1001 in fase d'acquisto per ottenere un 5% di sconto immediato. Oggi parliamo di un film del 2022, uscito da pochissimo, il 22 marzo, su Disney+. E occhio perché vi farò, come sempre, degli spoiler. Il film si intitola The Banshees of Annie Sheeran, scritto e diretto da Martin McDonagh, interpretato da Colin Farrell, Brendan Gleeson, Kerry Condon e Barry Keohan. Siamo nel 1923 sull'isola irlandese di Annie Sheeran, dove la vita passa tutti i giorni in maniera molto tranquilla. Lunghe passeggiate su meravigliose scogliere, gli animali portati al pascolo e i pomeriggi al pub. Ma questo idillio bucolico viene bruscamente scosso da un evento che nessuno poteva prevedere. Un abitante dell'isola, Colm Doherty, decide di non parlare più al suo miglior amico Podrick. Non solo non vuole parlargli più, lo vuole letteralmente eliminare dalla sua vita. Lo so, in questo momento starete pensando, tutto qui? Beh sì, tutto qui. Anche se la decisione di Colm di interrompere da un giorno all'altro la sua amicizia con Podrick se contestualizzata sul territorio dell'isola di Annie Sheeran è tutt'altro che una cosa da poco. Sull'isola vive una comunità di pochissime anime e la convivenza tra queste persone si basa esclusivamente sul concetto di essere nice, a nice man, a nice lad, a decent lad, una persona per bene. Su Annie Sheeran essere una persona per bene vuol dire andare tutte le domeniche in chiesa, salutare chiunque incroci per strada, bersi almeno una birra al giorno nell'unico pub dell'isola. Su Annie Sheeran, se Colm decide di non voler essere più amico di Podrick automaticamente vuol dire che Podrick non è più una persona per bene. Colm ha comunque una motivazione per questa sua scelta di non voler più essere amico di Podrick. Lui infatti considera Podrick una persona estremamente ottusa e ha deciso di non voler più perdere tempo nella sua vita con persone ottuse. Colm è un musicista, un violinista e sta componendo una ballata che appunto si intitola The Banshees of Annie Sheeran e vuole dedicare tutto il suo tempo alla composizione di questa ballata. Non vuole più perdere tempo in chiacchiere inutili, chiacchiere inutili che invece sono la specialità di Podrick. Podrick perde completamente la testa, non accetta di essere messo da parte e pretende di rimanere amico di Colm. Non ci pensa nemmeno a guardarsi allo specchio e a chiedersi il perché sia successo quello che è successo. Perché a Annie Sheeran nessuno si guarda allo specchio e si chiede il perché delle cose. Semplicemente il tempo passa, scorre, esattamente come la birra nelle pinte al pub. Colm è talmente esasperato da Podrick che a un certo punto gli dice Guarda che se tu mi parli ancora io mi taglio tutte le dita di una mano. Colm è un violinista quindi perdere le dita di una mano per lui vorrebbe dire perdere completamente la capacità di suonare. E Colm fa questa provocazione perché così crede che Podrick finalmente riesca a mettere da parte il suo ego e soddisfare la richiesta del suo amico di non avere più niente a che fare con lui. Ma Podrick è una persona completamente concentrata su di sé. È veramente l'immagine dell'egoismo. Tanto è vero che l'unico essere vivente con cui lui ha un rapporto è un asino. È talmente concentrato su di sé che non si rende nemmeno conto che sua sorella, Xioban, la pensa esattamente come Colm. Xioban si prende cura del fratello, si prende cura della casa, cucina, lava, rammenda, ma il suo rapporto con il fratello si basa più su un cristiano sentimento di pietà che non su un reale apprezzamento nei confronti della persona. Podrick continua imperterrito a ronzare intorno a Colm. e questo, come aveva promesso, si taglia le dita di una mano e le lancia contro la porta della casa di Podrick in un gesto come per dire ora vediamo se finalmente mi lascio in pace. Scusate se rido ma questo film prende una deriva da commedia veramente black che mi fa impazzire. Podrick trova una spalla in Dominic. Dominic è letteralmente lo scemo del villaggio. Il rapporto tra i due nasce da uno stato di necessità perché in quel momento Podrick ha bisogno di un nuovo amico e Dominic non ha mai avuto un amico in vita sua. Però con il proseguo del film ci rendiamo conto che Dominic era attratto da Podrick perché veramente lo considerava la persona più nice su Annie Sheeran. Con il passare del tempo e approfondendo la conoscenza con lui anche lui si rende conto che Podrick non è affatto nice e quindi anche Dominic gli volta le spalle. Il film prende una svolta piuttosto dark quando Podrick trova morto il suo asino. Praticamente il suo asino ha trovato le dita di Colm, le ha mangiate e si è strozzato fino a morire soffocato. Podrick in tutto questo, visto che le dita erano di Colm, decide che è stato proprio Colm ad uccidere il suo asino. Decide di vendicarsi bruciando la casa di Colm e anche in questa occasione Podrick è clinicamente incapace di prendersi delle responsabilità perché il motivo per cui Colm si è tagliato le dita e proprio il suo egoismo, ma non riesce a sentirsi responsabile di niente. Quindi siccome il dito che ha ucciso il suo asino era di Colm, Colm è automaticamente l'assassino del suo asino. I due alla fine del film si ritrovano su una spiaggia e osservando il mare si chiedono se quella sia veramente la fine della loro diatriba. Colm ha perso una mano, ha perso la musica e ha perso la casa. Podrick ha perso la sorella, ha perso l'asino e ha perso lo status della persona più nice di Annie Sheeran. In un certo senso sono due facce della stessa medaglia, sono due sinonimi dello stesso esilio. Le Banshees nella cultura irlandese sono spiriti dalle forme femminili che si mostrano agli uomini come presagio di morte. E nel film gli spiriti femminili sono due. C'è Sheoban, la sorella di Podrick, e la signora McCormick, una sorta di madonna oscura che si aggira per l'isola incarnandone lo spirito più mistico. E la signora McCormick effettivamente prevede due morti su Annie Sheeran. La prima è quella dell'asino, la seconda è quella di Dominic, che viene trovato morto o annegato in un lago. È stato un incidente? È stato un suicidio? Non importa, perché su Annie Sheeran semplicemente le cose succedono e nessuno si pone il problema. Sheoban invece è lo spirito che incarna la rinascita, perché lei è l'unico personaggio che durante il film ha il coraggio di lasciare l'isola di Annie Sheeran, perché trova lavoro sulla terraferma e quindi abbandona l'isola che lei descrive con le sue stesse parole come un mondo ormai per uomini ottusi e noiosi. The Banshees of Annie Sheeran è un film molto bello e anche molto particolare. È una black comedy e questo è un genere veramente, veramente difficile da trasformare in un film riuscito. Parte da un'idea talmente semplice da sembrare non adatta a reggere le sorti di un intero film, cioè l'idea di una persona che decide di non essere più amica di un'altra persona. E invece questo tema cresce e scena dopo scena pone talmente tanti livelli di lettura da rimanerne davvero impressionati. Oggi se qualcuno ci toglie l'amicizia sui social entriamo letteralmente in paranoia ed è comunque una frequentazione virtuale. In una piccola comunità come quella di Annie Sheeran, dove ogni giorno succedono le stesse cose con le stesse persone, una decisione del genere crea una vera e propria breccia nella realtà, rimescolando tutte le carte in tavola. C'è un particolare di questo film che mi ha particolarmente colpito. Lo ha raccontato lo sceneggiatore Martin McDonagh a un'intervista all'Hollywood Reporter, vi lascio il link in descrizione. Praticamente lui ha raccontato di non aver scalettato la sceneggiatura di questo film. Cosa vuol dire scalettare una sceneggiatura? Vuol dire suddividerla in blocchi di scene e all'interno di questi blocchi il tema e l'evoluzione dei personaggi si evolve fino alla risoluzione e quindi fino alla fine della storia. Ecco, la sceneggiatura di The Banshee's of Annie Sheeran non è stata scalettata. In un certo senso è stata scritta improvvisando e questo senso di improvvisazione, devo dire, che passa attraverso lo schermo e rende questo film unico nel suo genere. E adesso che birra abbiniamo a questo film? La birra che ho deciso di abbinare a The Banshee's of Annie Sheeran è la Eckbert del birrificio Shire, un progetto che nasce a Ferentino, in provincia di Frosinone. Trovate il link al loro sito in descrizione. La Eckbert è una English Best Bitter, quindi è una delle birre più tradizionali della cultura birraia del Regno Unito. È prodotta con malti e lupoli inglesi, tra cui il fagol, le cui note sensoriali sembrano riportare all'odore dei vecchi banconi di legno dei pub d'oltremanica. È una birra ambrata e di bassa gradazione alcolica. Sono solo quattro gradi. Il nome Eckbert è una dedica al sovrano che nel IX secolo rese il Vessex il regno più potente d'Inghilterra. Davvero la birra perfetta per le lunghe sessioni di bevute nell'unico pub di Annie Sheeran. Ringrazio ancora lo sponsor di questo episodio, il sito 1001birre. Inserite il codice BARLEY1001 per uno sconto immediato del 5%. Dalla versione di Barley è tutto. Buona visione, buona bevuta e non fermatevi alla prima. Buona visione, 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 bu